Una gara di grande importanza, vi aspetta domenica l'esordio nel triangolare affrontato il Varano, oltre a essere un derby terramano mette in paglio punti davvero pesanti. Sì, ci stiamo preparando al meglio in questa settimana, c'è grande entusiasmo da parte del mister, con il suo staff, noi ragazzi ci stiamo preparando al meglio per affrontare questa partita importantissima, quindi cercheremo di dare il massimo e speriamo di raggiungere l'ambito traguardo. Per quanto riguarda il Varano, che cosa sapete? È la squadra di un altro girone e viene da un pareggio in casa? Il Varano è una buona squadra, da quello che ci siamo un po' informati, andando a vedere la partita di sabato abbiamo avuto questa fortuna di riposare noi e aspettare, insomma, e vedere il Varano contro il Castelfrentano e niente, ci stiamo preparando, come già le ho detto, preparando in questa settimana al meglio per affrontare questa delicata partita e speriamo di riuscire a, diciamo, in questa ambita salvezza. Tornate in campo, appunto, dopo la sosta, c'è grande voglia comunque di tornare in campo, soprattutto per chiudere al meglio la stagione. Certo, assolutamente. L'augurio che ci facciamo da inizio stagione, poi nonostante i problemi che abbiamo avuto da quando è anche arrivato comunque il mister, nonostante tutto adesso ci ritroviamo qui, cercheremo di dare il massimo e ci auguriamo tutti di salvarci. Grazie.